Bella a tutti ragazzi, sono Zanzo, bentornati sul mio canale e oggi siamo qua con un nuovissimo video di Minecraft. Oggi ragazzi non siamo nella serie principale di Minecraft, ma siamo in una Adventure Map. Più che un Adventure Map è tipo una mappa ad obiettivi. Adesso andrò a spiegarvi velocemente quello che è questa mappa. Siamo nella Terra Swoop Force, come potete vedere dalla scritta dietro di noi. È una mappa che è uscita poco tempo fa, tipo ieri o l'altro ieri, quindi volevo essere il primo su YouTube Italia a portarvela. È una mappa che è stata fatta appunto per la 1.9.2 di Minecraft perché utilizza il nuovo oggetto, quello praticamente il mantello che si trova nel land, che devi utilizzare per volare e per planare in giro per la mappa. Cosa dovremmo fare appunto in questa avventura? Noi siamo un membro di una task force super mega importante che deve riuscire a capire cosa è successo sulla Terra. Praticamente un gruppo di scienziati ha utilizzato un super mega trapano, una trivella, chiamatela come volete, per arrivare fino al nucleo della Terra e tutto ad un tratto è stata rubata, è sparito. Quindi noi siamo stati appunto arruolati e utilizzando appunto questa tuta alare, come la chiama appunto il creatore della mappa, dovremmo riuscire a superare i vari livelli. Non perdiamoci chiacchiere, iniziamo subito ragazzi, vi sono preso subito mega bene. Allora c'è scritto di non utilizzare il suono, click to test the music. Perfetto, la musica non si scende, click to test the sound. Nice! Praticamente ho anche la texture pack che si auto installa, click to enter the map. Allora, entriamo, allora, import, make sure the desk to open LAN, ok. L'ho già aperto in modalità LAN. Apriamo qua. Ok, non c'è nulla. Questo è tipo un aereo sembra. Che figata, guardate qua, spettacolo. Però io voglio andare prima qua dentro. Qua si può riaprire poi. Sì, c'è un botto di pulsante. Questa è tipo la cabina di comando. Che figata ragazzi. Probabilmente dovremmo scendere qua. Che figa la scala con la texture. Surda, mamma mia, devastante. Allora, questa è tipo la nostra astronave, da quello che ho capito. Allora, qua intorno all'astronave immagino non ci sia nulla, però noi controlliamo. Non si sa mai ragazzi. Ok, non c'è nulla. Proseguiamo, scendiamo da qua e andiamo verso appunto le scritte. Allora, qua avvicinano tutte le cose del creatore. Poi visita il sito web. Se vuoi dare supporto. Qua vi lascio, se volete vedere il suo canale YouTube, eccetera, eccetera. Proseguiamo, andiamo di qua. GDL è tipo quella lì, la task force. Il nome della task force. Quella super mega cazzuto. Cos'è quello? Prima andiamo di qua. Allora, entriamo dentro in questa stanza ragazzi. Oh, benvenuti, benvenuti. Abbiamo aspettato di te quasi un'altra un'ora ago. Spettacolo. Quindi, head upstairs to the beginning, hands, brethren to the mission. Quindi, devo andare di sopra. Perfetto. Oh, state zitta. Se ne andiamo le scale. Press to start the presentation. Puh, è assurda sta mappa ragazzi. Madonna. Mamma, è un folle chi ha fatto sta mappa. Ah, ma bisogna anche sedermi. Spettacolo ragazzi, ma bellissimo. Ecco, guarda lì la trivella di cui si parlava appunto nella storia della mappa. Tipo ha trivellato la terra fino al centro del globo terrestre appunto, fino al nucleo. E sono scomparsi, tipo i due dottori. Dottor Barney, dottor Minovski. Eccola ragazzi, questa è l'armatura che dovremmo utilizzare, penso. Dai, dai, fammi volare, fammi volare. Ci voglia di volare. Fammi volare. Praticamente io parto da qua, dove c'è il GDL. Devo volare fino al base camp, fino al campo base alfa. Poi fino al campo base beta, per arrivare poi al centro della terra. Invece era un botto di lava in mano. Sasha? Sasha? E' il momento, nelle papere! What? Prego. Andiamo, 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 andiamo. Call elevator. No, vabbè raga, fermi. To the armory. Ciao ragazzi, creatore di sta mappa ha vinto. C'è l'elevator che funziona veramente. Madonna ragazzi, ma che figata è? Dov'è, dov'è la mia? Quindi devo prendere un'armatura? Fermi. No, vabbè ragazzi. Ciao proprio. Assurdo. Wing Flexibility Check Complete. Guarda! Ragazzi. Mamma, è assurda sta mappa. Ok, lei è lì e tipo mi accompagnerà appunto in questa avventura fino al centro della terra. Dice di non toccare mai terra, di non utilizzarla per volare dentro all'acqua, dentro a liquidi caldi o dentro alla lava. E di enjoy, enjoy, poi mi dice. Dov'è uscire da di qua? Andiamo. Ragazzi, sta mappa ci presenta benissimo. Guardalo. Call elevator è già qua. Ok, to the drop zone. Jump again midair to activate your wings. Ok, quindi mi dice di lanciarmi e di ripremere il salto quando sono a metà altezza del volo per riattivare le ali. Push the start vision. Only drop once your hatch is fully opened. Ok, dice di lanciarmi solo quando è completamente aperto. No, vabbè ragazzi, se si apre... No, vabbè ragazzi, ma sentite anche i suoni, c'è... No, vabbè, fermi tutti. Ok ragazzi, si è aperto tutto, quindi... Possiamo partire. Andiamo. Banzai! Ok. Vai su. Allora qua, nel frattempo, questo primo pezzo sembrerebbe abbastanza semplice. Devo solo ricordarmi di evitare tipo... Le cose qua grosse. Ecco tipo... Ecco tipo questo. No, 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 vai su, vai su, vai su. Non va più, non va più, non va più, non va più. Madonna. Devo prenderci un attimo la mano ragazzi, però non so... Effettivamente... Ok, non c'è bisogno di premere avanti. Tanto funziona tutto con il... Vai giù. Ok, scriviamolo stavolta. Oh, 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 piano. Piano, piano... Ok. Andiamo. Io vado di qua ragazzi, non so se è giusto. Cioè, non posso toccare nulla. Cioè, appena sfioro le cose salto in aria. Vai. Piccolo eroe. Doviamo arrivare alla fine. Secondo voi se entro dentro l'acqua che cade da... Da sopra... Dal cielo lì. Esplodo. Ok, scendi, scendi, scendi. Eh, vabbè però, icchelè. È difficile ragazzi, mi sa forse molto più semplice. Cioè, dovete provarla sta mappa. Beh, l'ambitazione è fighissima ragazzi, c'è assurdo. Guardate, tutta cazza è fatta bene. Molto bella. Giù, 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 giù. Bravo. So, sali leggermente, così rallentiamo. Giù, 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 giù. Oddio mio. Giù. Ok. Continuiamo così. No! No, 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 no. Sali, 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 sali. Eh, che cazzo, non l'avevo vista con la lanterna lì. Ok. Contro cosa ho picchiato? Ve lo spiegate contro cosa ho picchiato? Ah, ok. Ho capito contro cosa avevo picchiato. Ok. Ok, planiamo leggermente qua. Andiamo tranquilli. Perfetto, andiamo giù. Ok. Allora, qua. Qua dove devo andare? Dove devo andare? Madonna, ma che l'è? Meno male ho fatto quello, quel drifting lì, neanch'io so come ho fatto a passare lì in mezzo. Ecco. Allora, vai giù. Piano, piano, piano. Oh, 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 oh. Siamo arrivati? Ok. Perfetto. Qua ce l'abbiamo fatta. Alpha Base Camp Red is activating the console dell'ossigeno. Dov'è la console dell'ossigeno? Allora, siamo arrivati al campo base Alpha. Dov'è la console dell'ossigeno? Sarà questa? Press to cycle the airlock. Ok. Mi chiuso dentro. Spettacolo come negli ospedali. Tipo, vediamo un repuliere dai batteri e dalle scorie. Però è il spettacolo che viene fuori da qua. Il tutto. Ok. Quindi adesso tunnel 2 extra. Ok. Dice che il tunnel 2 adesso è pronto. È questo? Però non c'è scritto tunnel 2. Allora, io sono arrivato da là e immagino proprio di sì, ragazzi. A sto punto sarà questo. Proviamo. Vediamo se muoio già. Ok, è questo. Adesso è morto, è chiaro. Ok. Uh, 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 uh. Eh, vabbè. Come faccio a passare? Devo trovare una via giusta? Per poter passare in mezzo. Adesso andiamo con calma. Le ragnatele pure ci sono. No, no, ragnatele. No, 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 no. Dai. È difficile perché. Cioè, devi essere veramente reattivo. Ecco, vedi? Vedi? Per esempio, io non ho. Oh, oh, sono riuscito a salvarmi. Sono riuscito a salvarmi. Prendi velocità. Prendi velocità. Prendi velocità, stai su. Ora possiamo rallentare un po'. È ancora, è ancora. Prendi velocità, vai su. Bella, madonna. Devo star basso in sta zona perché ci sono le ragnatele che cagano la minghia. Vai giù, vai giù, vai giù, vai giù. Un dinosauro. Non l'avevo visto prima. What the fuck? Giù, 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 giù. Oh, su, 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 su. Non troppo, non troppo, non troppo. Ok. 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 Con calma. Con calma. Giù, su. Oh, madonna. Perché mi chino anch'io? Ho paura di picchiare la crapa. Ok. Vai giù. Ghiaccio. Ghiaccio. Oh, no. Prendi velocità, prendi velocità, prendi velocità. Puttana. L'ultima volta. Poi, secondo me, lo faremo nel prossimo episodio. Se no. Non è difficile. Non è così difficile come sembra. Se ci concentriamo. Rallenta un po'. Rallenta, rallenta. Bravo. Adesso prendiamo velocità. Perfetto. Sostiamoci un po' più di qua. Qua dobbiamo andare giù. Adesso qua saliamo. Sali, sali, sali. Non troppo, non troppo. Bravo. Mi hanno rallentato il giusto. Ok. Perfetto. L'ho presa bene sto giro, eh. Allora, andiamo, andiamo. Qua scendi. Ok, qua dobbiamo stare attenti alle starattiti. Che appaiono all'ultimo. Mannaggia. Non vedo. Il mondo si genera troppo lentamente. Il mondo si genera troppo lentamente, ragazzi. Giù, 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 giù. Oh. Sinistra, sinistra. Ok. Ok. No, no, no. Passa in mezzo. Passa in mezzo. No. No. Mi se ne dovevo proseguire verso destra. Perfetto, ragazzi. Allora, il primo episodio di questa mappa, di questa adventure map, puzzle map, chiamatela come volete, termina qua. Io vi ricordo di lasciare un bel mi piace per questa serie. Spero che vi piaccia. A me mi sta piacendo abbastanza. Vedremo poi se ci sarà dello sclero nei prossimi episodi. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Noi ci vediamo nei prossimi giorni di nuovi video. Qui da Zanzo è tutto. Un bel saluto. E per là. Noi ci vediamo nei prossimi giorni di nuovo video. Grazie a tutti.